In questo capitolo impareremo l'uso delle maschere. Più volte ci sarà capitato di chiederci come fosse possibile che all'interno di un'unica inquadratura un attore comparisse più volte. Bene, tutto questo è possibile grazie alle maschere. Iniziamo il nostro esercizio con un controclick e importando due file, soggetto DX e soggetto SX. Apriamo rispettivamente uno e l'altro per inserire in entrambi i casi mark in e mark out, delimitando la zona che vorremmo utilizzare nel nostro montaggio. Fatto questo, necessitiamo ancora di segnare con un marker il punto in cui il soggetto di destra posa il mouse per l'ultima volta sulla scrivania e quindi lo lascia. Questo punto. Stessa cosa facciamo sul soggetto di sinistra. Nel momento in cui preleva il mouse dalla scrivania, mettiamo un marker. Facciamo questa operazione affinché le due azioni dei due soggetti non vadano a interagire tra loro andando a sovrapporre le mani l'una all'altra. Fatto questo, trasciniamo le clip all'interno della timeline e verifichiamo, sincronizzando i marker, che le due azioni siano compatibili l'una all'altra. Dopo aver abilitato il tasto overlay, che ci consente di abbassare l'opacità delle clip, portiamo quella superiore a circa il 50%. Questo ci consente, anche grazie a un ingrandimento della zona, di verificare che l'azione avvenga senza la sovrapposizione delle mani. Se come in questo caso la sovrapposizione c'è, necessariamente dobbiamo spostare di qualche frame indietro la clip soprastante. Ora che la sovrapposizione non c'è più, possiamo continuare con il nostro esercizio. Rialziamo la linea di opacità e mettiamo al 100%. All'interno della cartella Effect andiamo ad aprire Filters e dentro a Filters apriamo Matte. La maschera che utilizzeremo noi sarà quella ad 8 punti. Piliamo e trasciniamo all'interno della clip posizionata sulla traccia V2. Nel momento in cui posizioniamo questo filtro possiamo subito verificare la comparsa di 8 targhette. 8 rappresentanti gli 8 punti di ancoraggio della maschera stessa. Dentro al tab Filters possiamo vedere le coordinate di ogni singolo punto. Ora facciamo clic sul tasto col croccino e posizioniamo il punto 1 in corrispondenza dell'angolo del monitor. Un clic sul croccino del punto 2 e il punto 2 in corrispondenza della colonna. Facciamo lo stesso col punto 3 e posizioniamolo in basso. Il punto 4 poco sotto la seduta della sedia. Il punto 5 in corrispondenza del piede. Il punto 6 a livello della scrivania. Il punto 7 molto vicino alla mano. E il punto 8 nell'altro angolo del monitor. Questo ci ha consentito di creare una maschera che ha isolato il soggetto di destra da quello di sinistra. Per verificare i margini della nostra maschera possiamo semplicemente fare un clic su View Mode e scegliere While Frame. Se reputiamo che i limiti e i bordi siano corretti procediamo. Riabilitiamo Preview. E spostiamo la testina di lettura all'inizio della clip. Questo ci consente di verificare se durante tutta l'azione il soggetto non esce al di fuori dei margini imposti dalla maschera. Scorriamo qualche frame e ci rendiamo subito conto che in corrispondenza di questo punto la mano passa la maschera tra i punti 7 e 8. Possiamo eliminare le targhette, quindi disabilitarle, e verificare più chirurgicamente se la mano oltrepassa il limite imposto dai due punti. Se come in questo caso verifichiamo che il limite è oltrepassato facciamo clic sul croccino e spostiamo un pochino i punti. Tutto sembra funzionare fino a che il soggetto di sinistra deve necessariamente oltrepassare la maschera per andare a prendere il mouse. Nel momento in cui il soggetto di destra si allontana dal mouse la nostra maschera dovrà essere animata e pertanto spostarsi per seguire le mani. Per fare questo andiamo a fissare due keyframe in corrispondenza del punto 7 ed 8. Spostiamoci qualche frame avanti in timeline. Arrivati a questo punto possiamo tranquillamente fare clic sul croccino del punto 8 e spostarlo. Stessa cosa vale per il punto 7. Ora la nostra maschera subirà un'animazione durante questi pochi keyframe. Una volta compiuta l'azione dovremo nuovamente portare i punti 7 ed 8 in posizione originaria affinché si veda la mano sulla tastiera che si muove. Non appena quindi il soggetto di sinistra si allontana facciamo di nuovo clic sul croccino dell'8 idem sul croccino del 7 e li riportiamo più o meno in posizione. Come si può notare a colpo d'occhio una linea netta separa le due clip. Per ammorbidire i bordi di questa linea possiamo ricorrere alla sfumatura. Quindi facciamo qualche clic e creiamo un bordo decisamente più morbido e più accettabile tra le clip montate. Per verificare meglio questi effetti possiamo scegliere Final e abbassare l'opacità della traccia V1. In questo modo ci rendiamo subito conto di cosa stiamo effettuando. Quindi applichiamo una sfumatura maggiore o minore applichiamo un ammorbidimento dei nostri angoli che non saranno più angoli netti ma diventeranno curve così come tramite la funzione Choke possiamo includere o escludere una parte del clip in corrispondenza della selezione fatta con gli 8 punti di ancoraggio. Nel nostro caso questo parametro va settato su 0 e Feeder su 5. Lo Smooth per noi non è necessario pertanto lo setteremo nuovamente su 0 e possiamo di nuovo alzare l'opacità sulla traccia V2 e procedere con il nostro lavoro. Mettiamo nuovamente Fit to Window all'interno della finestra Canvas e verifichiamo che tutta l'azione si svolga all'interno delle maschere. Possiamo procedere facendo il rendering e mandando in play la timeline possiamo subito renderci conto del nostro lavoro.